Allora, ci dice il nostro santo che questo bergamasco e muru, cioè un gesso, ci dice che l'hanno portato i carbonai che andavano a lavorare sugli appennini di Parma, l'hanno portato qui e l'hanno piantato praticamente verso la fine del 1800. E quanti anni avrà? Ah, quindi parliamo di 200? Il mio diceva che il suo nonno l'ha portato qui, più di 200 anni, bestia, madonna, oh, fiorissimo, wow. Riporteremo la segnalazione. Raccogliamo tutto noi. E' la costa che ho accorriuto, non ti gani a Ludice Mera, noi nous deviamo in Milano ma proprio, è la che lui dice che il per il tempo era più fonte. Non ti ho confianto lui, mi mi ha già fatto il notario, pagato i metti. Siii, io lo compro gavemai, il mio carletto cagliere, tu te lo paga? a macchina di comodità al del secco di strada teoremi amet del caldezoni e la picasso al del secco di calde la sal mara che gli ha carletto il caldezoni è carletto